L'esperienza che abbiamo portato avanti e che ha coinvolto dei SIDIM è quella di supporto come assistenza tecnica all'attuazione della strategia per lo sviluppo sostenibile. In una seconda fase di un processo di progettazione della strategia per lo sviluppo sostenibile della regione Sardegna che Poliste ha appunto dato come supporto alla regione. Quindi prima processo convenzionale, in fase attuativa abbiamo sperimentato l'utilizzo della piattaforma per due processi, quindi è molto verticale, assolutamente non integrato, l'abbiamo usato perché c'era l'esigenza di coinvolgere alcune target, in particolare i giovani, con dei contest, diciamo, e poi per costruire il percorso per arrivare al festival. DesiDIM comunque ci stiamo avvicinando a DesiDIM come strumento che Poliste aveva intenzione e sta utilizzando in maniera un po' anomala, diciamo, nel senso che noi abbiamo un'installazione DesiDIM che si chiama partizionale.poliste.com che usiamo per gestire diversi processi. Ok, quindi è ancora una cosa diversa. Abbiamo scelto questo percorso e questo approccio paradossalmente in maniera a bassissima intensità tecnologica, nel senso che noi non abbiamo un reparto IT, abbiamo avuto un'attività di difficoltà perché comunque installarlo è relativamente semplice, gestirlo è facile. Abbiamo incontrato all'inizio diverse complessità perché abbiamo cercato di, comunque da subito, in particolare il modo di sfruttare è stato interessantissimo, come Stefani ha evidenziato, abbiamo usato un componente proposta che in qualche maniera è il più versatile, potente, espanso. Abbiamo installato a supporto di quello il modulo, la gemma AllSlam sviluppata da Patronic, che aumentava la potenzialità per costruire, per specializzare il modulo e farlo diventare. L'abbiamo usato a servizio. Vediamo un attimino, così solo un attimino più. Questo è il processo che abbiamo costruito, abbiamo lavorato, ci siamo concentrati, è un'esperienza applicativa, abbiamo forzato, usando il glossario interno per ridefinire anche la mappa di come è organizzato e come è descritto il processo, e poi abbiamo costruito, usando la stessa modalità che raccontava Stefani, abbiamo spinto il supporto per cercare di far sì che gli utenti riuscissero a interagire. Questo è un contest che ha coinvolto le scuole primarie, che ha raccolto una serie di iniziative. Ci sono molti limiti, ovviamente, ma la cosa interessante è che siamo riusciti ad andare molto velocemente a costruire qualcosa che comunque funziona molto velocemente, venendo fuori da un'esperienza nella fase attuativa dove la relazione con la società in house della regione per fare delle modifiche, delle cose, non era andata a buon fine. Quindi abbiamo, in questa maniera, siamo riusciti nel giro di pochissimo tempo e soprattutto integrando, tenete conto che Poliste è, come dire, spostata verso il processo. Quindi, come diceva, come avete messo in evidenza anche nell'intervento precedente, cioè il rapporto tra l'implementazione di ciò che vogliamo realizzare e il progetto del processo deve essere, è un concetto che, in caso di Poliste, è andato abbastanza insieme, anche se noi siamo deboli dal lato del tecnologico, che abbiamo verificato di essere comunque un problema, nel senso che è un'esperienza da raccontare. Abbiamo avuto problemi nell'utilizzo della gemma USAM, quella che consente di specializzare con i custom field la componente proposta, e alla fine abbiamo coinvolto Platonic, che è lo sviluppatore, è il maintainer, e abbiamo, come dire, abbiamo trovato dei bug noi, dei comportamenti strani, nel senso, abbiamo chiesto loro supporto, ovviamente li abbiamo coinvolti come consulenti esterni in questo processo, e ci siamo resi conto, ecco, tornando un po' al concetto dei fork, è un ambiente open source dove però bisogna fare molta attenzione alla, come dire, alla scarsa robustezza, nel senso che se si cominciano a forcare le cose, poi mantenere la manuntebilità del codice diventa davvero complessa. Quindi noi abbiamo visto delle bellissime, c'è sempre la voglia di fare delle cose più belle, più verticali, più personalizzate, però al tempo stesso, così, da esterno, la forza è cercare di usare al meglio quello che c'è, magari forzando senza esagerare, perché comunque anche un utente scarsamente esperto come me di CSS è in condizioni poi di andare a intervenire e gestire un minimo di sintonia, se vuole ragionare sulla tipografia, sui colori, cioè quegli elementi che poi fanno parte dei processi di coerenza, di comunicazione. Ci consente comunque, questo è un processo che si vede, racconta, Salendo 2030 è un altro contest rivolto al mondo invece, diciamo, delle scuole superiori dell'università, e poi, interessante, il festival è un percorso dove da una serie di dibattiti su dei potenziali eventi si è arrivati a costruire un vero e proprio festival, che poi ha consentito di generare e gestire adesso l'evento qui. Abbiamo usato anche il componente, io non sono un esperto, diciamo, sono più concentrato su affrontare la comunicazione. Ecco, si è parlato anche negli incontri precedenti del rapporto tra le CDIM, è ovvio che i processi, questo è banale, ma, diciamo, l'attenzione alla comunicazione per coinvolgere diversi target verso la piattaforma è stato fondamentale, nel senso che non basta dei CDIM. La forza è stata che siamo riusciti a farlo in tempi e con una velocità... meglio che con anche uno sviluppatore, anche ipotizzando di fare degli sviluppi verticali con delle soluzioni aleatorie come Wordpress, con alcuni altri concetti, le cose si possono sempre fare, però qua noi adesso abbiamo un gruppo di esperti di processi, quindi di facilitatori, di progettisti, di processi partecipativi, che è in condizione ed è entrata in sintonia con il back-office, e con il back-end, diciamo, di CDIM, sta via via in condizione di sviluppare, diciamo, diversi componenti. Le problematiche sono che in questo processo, ovviamente, noi non abbiamo... è una situazione un po' particolare perché noi riusciamo a, come vedete qua, stiamo gestendo diversi processi, su, con diverse... in questa maniera riusciamo a entrare anche in piccoli spazi di partecipazione, anche molto veloci, come quelle che vedete, questo è un percorso per la progettazione, il coinvolgimento e l'ascolto del territorio, è per un parco già costituito, un distretto rurale, stiamo, siamo, diciamo, concentrati, diciamo, su questa dimensione. La difficoltà che vediamo è... io vedo personalmente, perché sono forse più vicino alla dimensione tecnologica, non sono un esperto, però ho un minimo di comprensione delle complessità. Ecco, desi di me, è veramente interessante, secondo me va sposato con la sua filosofia, diciamo, quindi anche le verticalizzazioni, le specializzazioni estreme che ho visto sono sicuramente bellissime, però al tempo stesso sono costosissime, costosissime e a quel punto ti perde il senso, perché questi devono essere processi dove ci deve essere veloce, semplice, è possibile portare anche in spazi e in economie, come dire, che possono investire poco, ecco, perché non sono bilancio, giustamente Milano, è un concetto diverso, è comunque uno sviluppo verticale, anche su desi di me, è uno sforzo molto delicato, l'ha messo in evidenza, la comunità sviluppatori rubi, o meglio, rails, comunque, e poi questo è un pattern di sviluppo ancora più, ancora diverso, nel senso che non è il classico sviluppo rails, è ancora una cosa diversa, quindi è ancora, si può approcciare, però, ecco, quello che, così invece, uno spazio secondo me, che sicuramente è ben decrociato, è la possibilità di svilupparlo come servizio, come software service, qualcuno lo sta facendo, no Michele? Sì, no, sì, io ho cominciato a sentirlo, ne ho sentito parlare in Svizzera, ne ho sentito parlare in Olanda, anche in Italia, Platoni, però non è uscito ancora, quindi immagino ci sia qualche, perché la logica di svilupparlo come servizio, magari fa perdere qualcosa, il progetto, diciamo, ha delle problematiche, però certamente riuscirebbe a rendere più semplice, gestibile, come dire, scalabile l'applicazione, e anche la possibilità di avere delle logiche di, a quel punto sì che la verticalizzazione, anche la capitalizzazione dei singoli investimenti, come quello che diceva Eugenio, allora sì, perché allora c'è il tanto per mantenere, perché il concetto è questo, perché veramente si potrebbe diffondere, prevedere la possibilità, anche con un piccolo gruppo di maintainer, senza necessariamente, anche con logiche poi di organizzative, e di spesso, diciamo, con dei modelli di business, come si dice, che dove i flussi di sostenibilità si possono costruire, diciamo. Per ora direi stop, poi magari, apparentemente ho verificato che Serenella, che è la responsabile, ha pubblicato invece, sul sito che citava Chiara, il racconto specifico del lavoro fatto sul processo participativo per la costruzione, che è stato molto interessante, è stato fatto nel periodo in pieno Covid, diciamo, quindi tutto in ibrido, con un grande coinvolgimento, quella è stata una bella esperienza, però è venuta prima di decidire, è integrata, quindi è un racconto che è durato quasi due anni e mezzo, quindi è comunque un'esperienza interessante. Grazie. Grazie.